Preparazione! Preparazione! Una che ha studiato 4 anni veterinari e non sa infilarsi un guanto! Abbiamo messo dell'aceto rosso, pochino, non tanto, in un pentolino e lo facciamo bollire. Ci godiamo questi fumi d'aceto. Dopodiché prendiamo una siringa. Non ti preoccupare i rumori. Poi tiriamo su un po' di aceto bollente e andiamo dalla nostra Anastasia, detta Laitasia, che è là dentro. La vedete là la stronza? La pungiamo e via! Puff! Scomparsa! Dopodiché raccogliamo il cadaverino e se riusciamo lo facciamo anche uscire. E se no, erroriamo con l'aceto caldo. Esatto, perché se dovesse rimanere un frammento di epitasia... E torna fuori! Esatto! Abbastanza stronzetta! Mi sa che abbiamo ammazzato anche un verme, poverino! Eh! Eh!